Truppe nato ufficialmente in Ucraina, occhi insanguinati di animali all'ambasciata di Budapest, Ucraina. Cominciamo con questa rassegna stampa delle notizie meno diffuse dalla stampa allineata in Italia, con una prospettiva diversa, magari opposta, filo russa, filo urban in Ungheria, che cerca di portare qualcosa di nuovo con notizie non analisi in ordine cronologico di raccolta di raccolta. Dalla prima notizia, Mick Wallace, ormai l'abbiamo conosciuto su questo canale, lo conosciamo bene, l'europarlamentare di sinistra, progressista, irlandese, che critica molto spesso gli Stati Uniti, la Nato e l'Unione Europea per quello che sta facendo militarmente e con le sanzioni energetiche soprattutto all'economia europea, con l'approccio alla guerra russo-Ucraina di condanna assoluta nei confronti della Russia e il supporto militare, anche militare e non solo umanitario, al governo di chi va alla presidenza Zelensky. Mick Wallace, che cosa è ormai diventato famoso su Twitter con i suoi video, che carica quasi quotidianamente con i suoi interventi nell'europarlamento. Che cosa ci ha detto? È comunque snobbato, poco coperto, poca copertura, i suoi interventi nei mass media, nei media principali di massa, mainstream, cosiddetti mainstream, cioè allineati filo-ucraini e filo-atlantisti, come direbbe bene la Meloni, mentre per altri temi come l'immigrazione e l'accoglienza, l'immigrazione di massa legale o illegale, lì riceve una buona copertura mediatica. Mistero della vita, eh? Comunque, molti, dice Mick Wallace, hanno cominciato a capire, a svegliarsi in Europa e in Unione Europea che gli Stati Uniti e la Nato tutta sta facendo una guerra per procura in Ucraina con grandi guadagni economici, commerciali, di interessi per l'America per quanto riguarda anche se non soprattutto la sua industria militare bellica, ma è una situazione catastrofica, di perdita immensa per le persone comuni, dei popoli europei e europee. Fino a che punto si chiede Wallace, polemicamente, sempre polemicamente, nel Parlamento Europeo di Bruxelles o di Strasburgo, non ricordo bene dove, i politici che stanno a capo dei governi dei paesi dell'Unione Europea si sveglieranno e fermeranno questo vero e proprio suicidio sociale e economico dell'Europa per volere americano e della Nato. Altra voce che non sentirete dai medi allineati in lingua italiana, o meglio, altra voce, altra notizia, altre voci le sentiremo più tardi in questo episodio. Un prete francese è stato sospeso, non può fare delle pretiche per quattro settimane, circa un mese in Francia, perché ha predicato contro l'aborto in senso cattolico cristiano e ha preso come esempio politico in questa materia Orban Victor, l'ungherese, il primo ministro. Il suo nome è François Schneider e che cosa è successo? Che questo prete ha predicato in una messa, in una tranquilla, normale messa, che le vittime dell'aborto, i bambini non nati, sono più delle vittime della Prima Guerra Mondiale in Europa. Che cosa ha detto sostanzialmente, come riportato anche da Breitpat in America, giornale conservatore? Che l'aborto nel mondo ogni anno fa circa 40 milioni di vittime, mentre invece le vittime della Prima Guerra Mondiale sarebbero circa 20 milioni, circa la metà. Vucic, quindi parliamo del presidente della Repubblica serbo. Questa guerra russo-ucraina ci terrà compagnia, per così dire, durerà altri inverni oltre a questo. Ha detto martedì in un'intervista a Pink TV, una televisione serba, se non erro privata. Servirebbe subito la pace, un cessate il fuoco, uguale a quello che dice esattamente le stesse parole di Orban. Non sono né russo né ucraino. Questa guerra non è affare della Serbia. Devono loro, i russi-ucraini, risolverla. E non è nemmeno un affare americano, dice Vucic, gli americani che da sempre si immischiano negli affari degli altri. Anche questa guerra non fa assolutamente eccezione. Non prenderà parte lo stesso presidente serbo all'incontro, il consiglio, al vertice straordinario, Unione Europea-Balcani-Occidentali, tra cui c'è notoriamente anche la Serbia. Un incontro che si terrà a Tirana, quindi in Albania. E perché? Qual è la causa di questa mancata presenza del presidente Vucic? Perché il Kosovo prenderà parte con il suo governo di Albin Kurti, protettorato americano, sostanzialmente, a questo incontro e prenderà un tema. Tra i temi ci sarà quello dei visti concessi dall'Unione Europea al Kosovo e l'ingresso, la candidatura del Kosovo, va a entrare nei 27 nell'Unione Europea, che diventerebbe automaticamente dei 28. E poi Vucic ha parlato duramente contro Albin Kurti. Il Kosovaro parla di immondizia terrorista, quindi parliamo di termini veramente duri, molto critici. E poi qual è il vero, la vera proposta, il vero desiderio di Albin Kurti secondo Vucic? Quello di arrivare a un Kosovo senza neanche più un serbo, come minoranza etnico-linguistica. Ringrazio per il nuovo contributo al canale Francesco. Poi andiamo avanti. Sarà una catastrofe militare umanitaria la prossima fase dell'operazione militare speciale barra invasione della guerra della Russia in Ucraina. Secondo, udite udite bene, un ex, ormai in pensione, colonnello dell'esercito degli Stati Uniti, Douglas McGregor, abbastanza famoso. E cosa ha detto al giornale American Conservative? Che la politica estera di Joe Biden, americana, democratica e, se si potrebbe dire, neoconservatrice, quindi globalista, mettiamola così, non fa altro che portare avanti lo slogan, l'ordine, zero prigionieri anche in Ucraina. Che cosa significa? Una guerra d'aggressione contro la Russia e la sua sfera di influenza, che potrebbe portare addirittura alla distruzione totale dello Stato ucraino. e l'avvicinamento sempre più repentino, neanche troppo graduale, di Mosca verso Pechino, verso la Cina comunista di Xi Jinping o post comunista come preferite. Wall Street Journal, questo giornale americano economico finanziario, L'Unione Europea non ha il diritto legale di confiscare dei beni, dei portafogli, beni valutari, a che cosa? Alla Russia di Vladimir Putin, alla Bielorussia di Lukashenko. Da marzo sono stati confiscati ben 300 miliardi di dollari in beni valutari allo Stato russo e altri miliardi di dollari a imprese e persone fisiche della Russia, con cittadinanza russa, cosa abbastanza bolshevica, neo-bolshevica, una sorta di bolshevichismo che, come dice la von der Leyen, cerca di girare queste somme enormi piano piano all'Ucraina, agli ucraini, alla politica ucraina, per la ricostruzione ufficialmente. Hirodo Pontu, le sanzioni, che cosa ha detto Orban Victor, primo ministro inglese, nell'ultima intervista alla radio pubblica a Kosciutradio venerdì scorso, venerdì mattina? Che le sanzioni europee, tra virgolette antirusse, non ci hanno neanche avvicinato di un millimetro alla pace alla fine della guerra. Nell'Unione Europea ci sono due parti politiche, quelle che stanno al fianco della guerra e quelle che vogliono la pace. Noi facciamo parte della seconda categoria. Chi vuole la guerra, vuole proseguire, vuole altri pacchetti sanzionatori a livello europeo, soprattutto energetici, che sarebbero la distruzione dell'economia delle nazioni europee. Una vera e propria bomba atomica, come disse sempre il primo ministro ungherese marzo scorso. L'Europa si è persa completamente, non ha più una bussola, se non quella di altri interessi, interessi stranieri, qui implicitamente cita l'America, gli Stati Uniti e la sua cosiddetta elite politica. La sinistra ha ricevuto in Ungheria, sinistra europeista, globalista, decine di milioni di dollari dagli Stati Uniti in maniera anticostituzionale. L'Unione Europea, nel mentre, che cosa fa? Vuole che noi come governo ungherese permettiamo l'ingresso di immigrati, anche regolari, l'ingresso di massa, propaganda sessuale nelle scuole ai bambini, arcobaleno, e poi che sosteniamo anche con armi, soprattutto con armi, la guerra in Ucraina dell'Occidente per procura contro gli Stati Uniti. Ultimo capitolo dell'intervista, non lo devo tralasciare, la sfida più grande, dice Orban, di questi termini è l'immigrazione, sempre più tensione al confine tra Serbia e Ungheria, con le sparatorie e tutto, e devo raccontarvi anche così sporadicamente, velocemente, un reportage, un servizio della televisione privata conservatrice Pesti Teve, che ha intervistato degli abitanti dei paesini in minoranza ungherese in Voivodina, quindi siamo pochissimi chilometri, due o tre chilometri dal confine ungherese a nord. Delle macchine di medici senza frontiere della rete Open Society, di Società Aperta, di Soros, spostano delle masse, dei gruppetti per creare della tensione con le guardie di frontiera e l'esercito messo da Orban per proteggere i confini, non solo dell'Ungheria, dell'Unione Europea, dello spazio Schengen. È precipitato per motivi, si dice ufficialmente, secondo i russi tecnici, un altro caccia militare, un MiG-31 russo, proprio in Russia, nella regione, se non erro, di Leningrado, Oblast, quindi vicino San Pietropurgo, di Primorsk. Siamo il 2 dicembre scorso, quindi ieri un ennesimo caccia con problemi, non credo, qualcosa magari bolle in pentola dalla parte americana, ucraina, occidentale. La Cina, il Ministero degli Esteri Cinese, per bocca del suo portavoce Zhao Lian, che cosa ha detto? Ha detto, cara Unione Europea, rifletti bene sul tuo rapporto con gli Stati Uniti di sudditanza, perché non c'è più un'indipendenza, una sovranità europea, sul tema sempre predominante, ormai dominantissimo, nell'attualità della guerra russo-ucraina. Gli Stati Uniti hanno accumulato, stanno accumulando grandi ricchezze con le sanzioni, eccetera, mentre l'Unione Europea sanguina per l'inflazione e l'aumento dei prezzi, non solo la mancanza magari di materie prime e di energia. Snowden, ex agente della CIA che nel 2013 diede dei segreti, dei programmi software informatici, dei servizi segreti inglesi della Gran Bretagna e americani, a diversi giornali come il Washington Post e il Guardian, ha giurato come cittadino, ha preso la cittadinanza russa, dove si è rifugiato dopo la caccia all'uomo, soprattutto di autorità americana, per quello che ha fatto proprio circa un decennio fa. Il presidente ucraino Zelensky vuole mettere al bando tutte le chiese ortodosse legate alla chiesa ortodossa di Mosca e di tutte le russie in Ucraina. Nel suo paese l'obiettivo è quello di mantenere l'indipendenza, la sovranità e la sicurezza in Ucraina contro la propaganda e i movimenti dei traditori filorussi, proprio nel paese dell'Europa orientale. Se il rischio di sicurezza interno sbuche cosa ha portato avanti, come ha raccontato anche da me negli ultimi giorni, diverse azioni, raid, nei confronti di diverse, circa almeno otto istituti religiosi, monasteri, abbiamo visto le sue ore ieri, in almeno tre oblast regioni dell'Ucraina. La Gran Bretagna, come riporta il Telegraph, quindi non una fonte conservatrice allineata, assolutamente allineata anzi, la Gran Bretagna si sta muovendo abbastanza gradualmente, piano piano sta scivolando nella censura, soprattutto in rete. Stiamo, come dice l'autore, Frazier Nelson, stiamo in ritardo, stiamo perdendo il tempo, non faremo più in tempo a fermare questa cosa, perché l'Online Safety Bill, questa legge, incentiva le grandi aziende, soprattutto americane, della Silicon Valley, della grande tecnologia, a trasformare, adattare i propri algoritmi tecnologici delle proprie piattaforme contro dei discorsi di libertà d'opinione, soprattutto in diverse questioni considerate odio per chi è più allineato globalista. Una petizione è stata lanciata in Repubblica Ceca per togliere elettricità, acqua e riscaldamento a tutti gli edifici di proprietà russa dei cittadini russi a Praga. La stessa cosa è stata fatta anche in Slovacchia, a Bratislava, come riporta Visgrad24. Degli occhi insanguinati di animali non umani, per fortuna, sono stati inviati in dei pacchetti sospetti, intimidatori potremmo dire, all'ambasciata a Budopest, Ucraina, e quindi l'ennesimo episodio simile dopo quello che è successo, come raccontato ieri anche da me, con i pacchi bomba per diversi obiettivi strategici nella Spagna di Pedro Sanchez. E poi altri casi di questo tipo in Olanda, Polonia, Croazia, Italia, quindi tutte ambasciate. E poi a Napoli e a Cracovia i consolati principali, poi a Brno in Repubblica Ceca il consolato normale, in Vaticano l'ambasciatore ucraino in Vaticano, la sua casa privata è stata distrutta, vandalizzato il portone, come riporta anche su Twitter, su Facebook, scusate, vari fonti, autorità ucraine come Oleg Nikolenko che abbiamo imparato a conoscere, soprattutto con il rapporto con l'Ungheria, su questo canale. Germania, in caso di guerra calda, vera, dell'ingresso in guerra della Germania, le munizioni dell'esercito, a disposizione dell'esercito di Berlino, sarebbero, durerebbero qualche ora, letteralmente, riportato nel giornale europeista di Bruxelles, in lingua inglese politico.eu, sotto accusa Christine Lambrecht, la socialdemocratica ministro della difesa. Nonostante il pacchetto da 100 miliardi di euro messo in campo dalla cancelleria Shorts, proprio per l'ambito militare, migliorare l'esercito tedesco. Stati Uniti, delle armi, dei sistemi missilistici, soprattutto, saranno trasferiti dal Medio Oriente all'Ucraina nei prossimi mesi, anche se già due batterie di Nasams, parliamo di sistema antiaereo a medio raggio, sono stati consegnati due batterie. Venerdì scorso, mercoledì scorso, scusate, il Pentagono ha firmato un mega accordo con le ditte fabbricanti, produttrici di questi Nasams, 1,2 miliardi di dollari di accordo per la produzione di sei unità batterie di Nasams. Presidente nigeriano della Repubblica nigeriano su Twitter che cosa ha scritto? Che nella guerra in Ucraina, le guerre, le armi destinate all'Ucraina, trasferite dall'Occidente, soprattutto all'Occidente, all'Ucraina, molte vanno a finire purtroppo nel mercato nero e arrivano nella regione del Sahel, del Nord Africa e mettono a repentaglio la sicurezza e la pace in una regione già problematica. Le armi, soprattutto, arrivano e arriveranno sempre più nella regione del lago Chad, della sua nazione. Parliamo di un mercato nero che è veramente preoccupante, anche e soprattutto per stati africani divisi in guerra civile, magari anche il nord della Nigeria. La Spagna ha, con il suo ministro della difesa o della guerra, ormai potremmo dire come molti stati della Nato, quasi tutti tranne l'Ungheria 29 su 30, armi, sistemi di razzi missilistici antiaereo all'Ucraina, di produzione americana, come riporta anche Oleksii Resnikov, portavoce e ministro della difesa ucraino venerdì sul Telegram, sul suo profilo Telegram. Parliamo di sistemi missilistici AUK, sempre di medio raggio, che possono essere usati per colpire caccia aerei nemici russi, in questo caso, oppure razzi d'attacco, d'offesa dall'altra parte, nemici, sempre russi, oppure di produzione iraniana, come volete. Per finire, la Polonia, delle squadre speciali o d'elite militari polacche, che fanno parte di un contingente Nato, quindi sotto ordine Nato, operano già in Ucraina, nella regione oblast di Dnipropetrovsk. L'esercito ucraino ufficialmente ha che cosa ha detto? Che questi soldati sono camuffati con le divise ucraine e operano, come dice invece Rianovosti, agenzia russa, nella città di Maranez. Che cosa fanno? Qual è l'obiettivo? Stanare tutti i traditori ucraini, le spie russe nella zona. E come riportato già diverse volte da fonti governative l'esercito russo, molti mercenari polacchi, ma non solo, operano in Ucraina da mesi e addestrano gli ucraini e non solo in Ucraina, anche in Polonia, in Germania, nel Regno Unito gli ucraini a combattere contro i russi e ad utilizzare armi occidentali e non di derivazione sovietica. Pensate solo, l'ultima cosa, che nella zona, nella regione, nella città, per meglio dire, di Zaporizia, quella della più grande centrale nucleare d'Europa, sotto mano russa, sarebbero circa mille i mercenari solo in quel fazzoletto di terra intorno al fiume Dnieper. Grazie per aver visto questo episodio al prossimo tra Italia e Modio Lorsal.